Atmosfera natalizia quella di venerdì sera in piazzetta San Salvatore dei Greci, dove gli abitanti di Sallicandro hanno potuto festeggiare San Martino. La piazzetta, ormai da due mesi nei fine settimana, ospita alcuni artigiani locali per l'esposizione dei propri prodotti. Iniziativa questa promossa dalla quinta circoscrizione. Presente alla manifestazione il vice presidente vicario del consiglio Nino Interdonato, il consigliere Zuccarello, il presidente della quinta circoscrizione Santino Morabito, che non ha risparmiato i complimenti al suo vice Franco Laimo, che insieme ai consiglieri Cannistrace e Mucciardi sono stati fautori dell'iniziativa che durerà fino all'8 gennaio. Dulcis in fundo la visita del sindaco Renato Accorinti.